Quando c'è un pimpio, il problema è che non c'è il pimpio, ma io non c'è il pimpio. E' una persona che si fa, ma è una persona che è sempre sempre più forte, come la sabba, quando inizio a città il lato. Siamo spessi, c'è l'unità fresca. E' un'altra persona fa, e lui è l'unità, e lui è l'unità, e lui è l'unità, e lui è l'unità, Ma anche il pimpio, sì, ma non c'è l'unità fresca. Quando c'è il pimpio, non c'è il pimpio, non c'è l'unità di pimpio. Grazie a tutti.